Il Foggia è un passo importante verso la salvezza, mentre è ripresa la serie negativa della Roma in trasferta. Eppure aveva cominciato bene, ecco un bel cross di Boni per la testa di Prati. Poi era il Foggia a prendere il sopravvento. Qui sul centro di Ripa, Sali, il Brightener delle Puglie, alza sopra la torre. La squadra di casa vuole vincere a tutti i costi e costringe la Roma nella sua area. Nel secondo tempo la Roma si scuote e, a tratti, sembra quella che all'Olimpico non perde una battuta. Sul corner di Bruno Conti, Di Bartolomei potrebbe segnare, ma Sali salva proprio sulla linea. Finale è tutto del Foggia, una squadra molto gruntosa, quella allenata da Puricelli. E al quarantinesimo segna Olivieri un gol da Movioli. Il Foggia adesso ha tre punti di vantaggio sulla terza utile.